Ci sono persone che nella vita ci lasciano qualcosa e anche se per poco, quell'incontro ti rimane nel cuore e te lo porterai per sempre dentro Qualcuno mi ha detto che ci si innamora soltanto una volta ma io non ci credo L'energia non si crea e non si distrugge Tutto si trasforma Anch'io avevo bisogno di trasformarmi in qualcosa di migliore e con l'admino ci stavo riuscendo Io penso che bisogna essere sinceri e autentici con le persone che ci vogliono bene Si può essere ma qui non siamo in Italia Massimo qui siamo in Russia Ormai l'odio ha preso il sopravvento e più dopo le leggi di Putin la paura è aumentata Il rispetto viene dalla testa ma l'odio viene dal cuore Nessun sentimento è completamente sotto nostro controllo A volte è più comodo credere all'immagine che gli altri hanno di noi che accettare veramente quello che siamo Grazie a tutti Grazie a tutti